Purtroppo ci segnalano che ai bagni Mike e Micchi, questi di sottomarina in zona a sud del Ganso Stanco, hanno avuto un furto, ci mandano anche una foto ripresa dalle telecamere, lo stabilimento è coperto da impianto di video servoglianza e al momento non sappiamo del di quando, immaginiamo nella notte di oggi, ci sono entrati dei ladri e come potete vedere le immagini hanno rubato un televisore, forse altra cosa. Al momento non abbiamo altre informazioni precise, intanto ve le anticipiamo e se avremo ulteriori aggiornamenti daremo. Ovviamente è una nota dolente, ci dispiace molto perché già gli operatori fanno di tutto di più per tenere gli stabilimenti in ordine puliti con tutte le problematiche che ci sono e avere questa gente che fa queste cose ovviamente è un danno. Qua ci sono le foto come potete vedere, si tratta di due individui semi mascherati, se qualcuno avesse indicazioni ovviamente è pregato di avvisare le forze dell'ordine.